Musica Musica Ora e venturi a un minuto, buonasera dallo studio centrale di TV6, l'appuntamento del lunedì con il replay, ancora una sconfitta per i biancoazzurri, nelle ultime 6 giornate sono 3 le battute d'arresto per la formazione adriatica, il momento più difficile da quando Beppi Pilon è sulla panchina del Pescara. Andiamo a presentare subito gli ospiti di questa puntata, saluto e ritrovo con piacere l'agente FIFA, broker assicurativo e finanziario dei calciatori, Dino Zappagorta. Buonasera a tutti, ritrovo con piacere una vecchia colore del Pescara, l'allenatore del Francavilla, Paolo Rachini. Buonasera Rachini, grazie per essere qui con noi. Grazie per l'invito. Il nostro compagno di viaggio, Totò De Leonardis. Buonasera a tutti. Dall'altra parte abbiamo l'altro nostro ospite fisso, Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco. E vado a salutare anche il collega Luca Penese. Buonasera Luca, bene ritrovato. Un saluto anche in regia ad Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera a tutti gli amici da casa. Tre posticipi questa sera in Serie A, Serie B e Serie C. In Serie A Napoli in vantaggio a Bergamo sull'Atalanta, a rete al secondo minuto di Fabian Ruiz. La gara ha avuto inizio alle ore 20 e 30. Appena iniziata, ore 21, foggia Venezia la partita che chiude questo turno di Serie B. Ovviamente 0-0, 0-0 in Serie C, girone A, la partita dell'Alessandria contro il Piacenza. Altra notizia del giorno, la nomina del presidente del Pescara Daniele Sebastiani, una nomina federale all'interno del tavolo sull'impiantistica, una commissione della quale fanno parte, tra gli altri, massimi dirigenti della Roma, Baldissoni e del Bologna, Fenucci. Prima riunione di questo ottavolo il prossimo 13 dicembre. A te. Poi Andrea, oltre ai posticipi, ci aggiornerai anche sul Carpi, prossimo avversario del Pescara. La partita è in programma venerdì sera alle ore 21 all'Adriatico-Cornacchia. Diciamo, in apertura, il Pescara ha subito questa sconfitta di Perugia per 2-1. Il momento difficile della squadra di Pillon abbiamo titolato proprio questa sera Pillon-Curi il Pescara, perché è in flessione di risultati da sei giornate, anche le prestazioni non sono state più positive, come nella prima parte della stagione. Quindi cercheremo di analizzare i vari aspetti di questa flessione, di questo calo di rendimento del collettivo e anche di alcuni singoli giocatori. Gli episodi di Perugia ovviamente sono stati determinanti, con i gol degli ex Verre e Ghiomber. Sull'1-0 il Pescara aveva trovato il pareggio con il giovane Melegoni. Intanto per quanto riguarda le notizie dell'infermeria, poi Costantini ci darà ulteriori indicazioni. Fiorillo sicuramente salterà la prossima partita con il Carpi e la successiva di Verona in programma lunedì 17 dicembre alle ore 21. Iniziamo dai commenti sulla partita di Perugia. Totò, il tuo primo pensiero su quanto hai visto al Curi, una sconfitta maturata nel secondo tempo, ripeto, con i gol di Ghiomber sul 2-1? Beh sì, intanto non è stata una bella prestazione. Abbiamo visto una partita direi anche abbastanza equilibrata, in cui però il Perugia ha avuto le occasioni migliori, non solo su due gol, ha sfruttato anche i notevoli errori del Pescara. Entrambi i gol sono stati diciamo mezzo regale insomma per qua. Quindi è stata una partita in cui il Pescara ha riuscito, inizialmente credo che se la sia giocata, quasi a mantenere un po', a tenere l'equilibrio. Il Pescara ha cambiato modo di fare partita soltanto nel momento in cui si è trovato in svantaggio e in effetti c'è stata una buona reazione. Però vuol dire alla fine quello che emerge in effetti è una squadra che sta attraversando un periodo sicuramente non bello. Sembra quasi che abbia perso direi soprattutto la spenceratezza e l'entusiasmo che ha avuto nella fase di... Non diciamo tutto, non abbiamo più tanti argomenti. No, no, appunto come... e questa è l'impressione che ha dato... Non è stata una bella prestazione. Non è stata assolutamente... Non è stata d'accordo Francesco? A livelli di sì. Molto meno di altre partite nelle quali non è riuscito a ottenere il risultato. Nel corso di trasmissione potremmo parlare di tutto e il contrario di tutto, anche nelle scelte, se vogliamo, sia iniziali e anche nel corso della partita operate da Pilon. È vero che quando le scelte sembrano un tantinello azzardate o strane, se il risultato arriva va tutto bene. Quando il risultato non arriva, le critiche si possono fare anche quando il risultato c'è, entrando nelle pieghe di una partita. Quando poi il risultato non arriva, determinate scelte, determinate errori anche dei singoli giocatori della squadra, tutto viene incidantito. Il primo giro d'orizzonte lo chiudiamo con il collega Luca Pennese, dopo andremo a sentire Piloni e sentiremo anche Zappa Corterra e Chini. Luca? Una specie che sia il punto più basso di un mese in cui il Pescara non ha confermato quelle che erano le aspettative della prima parte di stagione. Un periodo difficile. A Perugia è mancata brillantezza, come sta accadendo un po' da qualche settimana. Gli episodi sono stati determinanti errori clamorosi, specialmente nel secondo giro. Sul primo il ragazzo può commettere quell'errore, invece io non capisco come si ostini Pilon a schierare per rotta al centro della difesa, creando malumore all'interno. Adesso non entriamo nel dettaglio dei singoli, ne parleremo tra poco. Pescara sotto tono ricalca la fase discendente dell'ultimo mese e Piloni deve trovare in fretta la strada per invertire questa tendenza. Piloni invece non è d'accordo su quello che avete detto voi perché a lui la squadra è piaciuta, quindi non bisogna lasciarsi condizionare del risultato. Lo sentiamo e poi valutiamo anche le vostre riflessioni. Andiamo a sentire Piloni in breve. Pescara che anche questa sera ha dimostrato di avere qualche problema a concludere verso la porta avversaria perché non ci sono state obiettivamente parate del portiere Gabriel nell'arco dei 90 minuti. Secondo lei perché sta accadendo tutto questo? Ma io nel primo tempo ne ho contate le occasioni, ne ho avuto subito una bruma. Di parate di Gabriel non ce ne sono state? Io guardo le occasioni che ci sono state, poi se non sono state concretizzate è un altro discorso perché se la squadra produce gioco, produce occasioni vuol dire che il gioco c'è. E' lo stesso nella seconda parte. E' un momento di flessione, non bisogna negare le evidenze, un po' di difficoltà c'è. Pian piano cercando di lavorarsi sopra, bisogna essere tranquilli e analizzare bene le cose al momento. Non drammatizzare perché non è il caso di drammatizzare ma guardare avanti su come rimediare a questa situazione che siamo in questo momento. All'inizio del campionato alcuni episodi avevano sorriso al Pescara in queste ultime giornate. Gli episodi sono contro la formazione biancazzurra? Sì, direi di sì, basta guardare l'ultimo episodio che l'ha parata praticamente sulla linea di porta, l'ha rispinta. Magari fai i gol lì, si parla di un altro Pescara, si parla di altre cose. Perciò io voglio analizzare bene le cose con la mente fredda, sappiamo che in questo momento è così e supereremo anche questo. Basta poco per tornare a far punti e soprattutto a occupare posizioni che si occupavano all'inizio della stagione? Basta due vittorie e torni su, perdi una partita e vai giù. Questo è il campionato della Serie B, soprattutto quest'anno che è molto equilibrato. Abbiamo sentito dunque Pilon, prima dell'intervista i colleghi di Leonardis, Di Francesco e Pennese hanno dato un gizzo negativo sulla prestazione. Zappa corta da che parte sta? No, negativo no. Che ci sia un calo è normale, è fisiologico, c'erano tutti questo calo, tutte le squadre, tutte. Qui abbiamo un allenatore che sicuramente ci spiega meglio di me che non ho mai giocato a calcio. Io dico che se con i sé e con i ma non si... però Brugman che è il più forte del Pescara spara in tribuna una palla che altri avrebbero messo dentro, cambia tutto. Ma con i sé non si fa niente. Oggi è un periodo che non va, non ieri, sono due o tre domeniche che non va. Ovviamente quando non arrivano i risultati si perde anche, come ha detto giustamente, una certa spensieratezza, potrebbe subentrare un po' di timore. Ma non lo capirei perché il Pescara è stato costruito per ammazzare nel campionato e tantomeno per andare in Serie A. Come qualcuno sento in giro, ha fatto voli pindarici fino a tre domeniche fa. Io cercavo nel mio piccolo di far capire che il Pescara, se riesce a fare i play-off, per me ha fatto un grande risultato. Non stiamo criticando l'andamento del Pescara di questa stagione. Si sta analizzando la partita di ieri e ci si chiede, ma credo che il primo attimo è stato pilota. Anche io lo sto facendo, forse eri disattento. Come mai dopo, forse prima nella squadra andava tutto bene, si correva di più, si giocava decisamente meglio e si ottenerono risultati migliori. Era la prima in classifica il Pescara tra la sorpresa di generale. Ieri non ha giocato Balsano, non ha giocato... Ha giocato Balsano, ha giocato Ciofari, non ha giocato Campagnaro sappiamo quanto vale. Adesso non me ne voglio perdere, ma se c'era Campagnaro qualcuno lo prendevamo. Forse faceva rigore, ma qualcuno lo prendevamo. Ieri nel calcio valgono poco. Durante una stagione lunga come la Serie B ci sono infortuni, squalifiche, gente che va fuori condizione, gente che perde la testa. Non la farei così tragica. Ed è quello che stiamo analizzando. No, proprio la stessa cosa no, però partiamo da punti di vista diversi. No, no, se partiamo da punti di vista diversi, perché allora ti dico che se manca Campagnaro, benissimo, fino adesso Perrotta era andato bene. Forse nelle ultime apparizioni di Perrotta qualche piccola sbagliatura da parte di Perrotta c'è stato. Scognamiglio, non lo so cosa dovrà fare, Scognamiglio o cosa dovremmo fare noi per aspettare di vedere Scognamiglio. Poi magari gioca Scognamiglio e non ce lo auguriamo, sbaglia pure lui, ma ci può stare in quel caso lì. Ma non far giocare Scognamiglio. Allora andiamo con noi. Perché ti aggiungo, e butto lì e poi ne parleremo. Mi devi scusare, se non si faceva male Memushai, noi ieri non avremmo visto di nuovo Meleconi, che la prima partita giocò bene. Siccome queste cose le ho chieste per Modridile, ne abbiamo parlato nel discorso. Meleconi, la prima partita, benissimo. La seconda, un tantinello meglio, quindi sembrava che non avessero giocato bene, poi di colpo, boom, non ha giocato più. Andiamo con ordine, perché inizieremo tutti gli argomenti, scusami Francesco, perché un difetto di fabbrica di questa squadra sembra essere quello di, una volta trovato il gol, ho passato in vantaggio, ho raggiunto il pareggio in trasferta, automaticamente questa squadra si abbassa per difendere il risultato. Antonio, da che dipende? Perché non è soltanto una circostanza, sono talmente tanti gli episodi che hanno caratterizzato queste 14 giornate di campionato. Di che si tratta secondo te? Di paura? Di mancanza di aspetto tattico? No, secondo me qualcosa che scatta nella testa c'è della squadra, voglio dire, rispetto all'inizio, per quello ho parlato di spensare la testa, anche di questa leggerezza comunque di affrontare la partita, anche nei momenti di disagio, è quello che questo Pescara ci è piaciuto all'inizio, proprio per questo, per questa sua capacità, anche di fronte alle difficoltà, di venire fuori, di reagire, più o meno quello che ha fatto negli ultimi 8-10 minuti di ieri, però prima quello che avverti è questo, poi mettici pure, voglio dire, la condizione. Ieri, che so, Mancuso veniva da infortunio, quindi l'abbiamo visto pochissimo, credo che, insomma, anche le assenze in particolare di Campagnaro l'abbiamo esaltato fino a due domeniche fa, perché in effetti è stato il valore aggiunto di questa squadra, anche per i giovani che stanno dietro. Lo stesso Balzano… Sì, 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 però nell'insieme, nell'ultime tre partite, a Palermo credo che all'inizio abbia subito anche la forza sul piano mentale dell'avversario, perché lì si avvertiva. Nelle altre partite invece la squadra è sembrata meno brillante, meno spensierata, di questo continuo a dire, che secondo me il problema principale è questo. Io non credo che… Sto sviluppendo un po' la pressione. Appunto, io spero che non sia questo, perché voglio dire, sul fatto che questa squadra sta facendo il doppio e il triplo di quello che si pensava è fuori di dubbio. Siamo tutti d'accordo. Esatto, ma credo che anche la tifoseria, voglio dire, si vede l'atteggiamento che c'è allo stadio, anche nei momenti in cui la partita con l'Ascoli è pareggiata in quel modo, che poi però sono stati gli applausi della Curva e anche del resto dello stadio. Anche ieri i partiti tifosi hanno applaudito. Esattamente, sì, sì, perché alla fine, anche io credo che soprattutto su questa reazione finale, certo noi l'altra settimana ci chiedevamo sulla possibilità che l'allenatore potesse comunque trovare delle soluzioni, soprattutto a partiti in corso, cioè quella di magari… Questo è un altro argomento. Esattamente, questa volta io credo che lui l'abbia impostato in questo modo, in maniera, diciamo, più prudente, perché la presenza di Crecco come esterno-sinistro, piuttosto che un'ala di ruolo, è chiaro, dava questo. E poi anche il fatto di aver comunque giocato, ha giocato parecchio, possesso parla. Mettici pure appunto il calo di condizioni di qualcuno, che so, la partita di Macini, ieri, a parte, è stato quasi indisponente, nel senso che è un giocatore di grandissimo talento, però alla fine se tu, quando diciamo a Pescara ha il migliore centrocampo della Serie B, d'accordo, sulla carta è sicuramente quello, però poi lo devi dimostrare sul campo, cioè questo è il problema, cioè anche i giocampisti magari a chiedere maggiore personalità, maggiore capacità, soprattutto di aiutarsi tra loro. Anche l'assenza di Mamosai credo che sia stata importante. Rachini, quando si vede una squadra, torniamo alla domanda precedente, che sarà una casualità, però sta avvenendo spesso, trova il gol, si abbassa, riesce a riequilibrare con un risultato in trasferta, quindi ieri 1-1, nuovamente ci si pone più coperti. Cioè, è l'allenatore, parliamo in generale, perché poi nessuno sa... Ma io non credo che sia un discorso che l'allenatore dica ai giocatori. Perché succede questo? Perché comunque si va sotto, poi si recupera e inconsciamente succede che poi in campo... Ma questo anche in casa succede? Sì, sì, succede anche in casa, ma io penso che questo sia un periodo, come diceva Dino, ci sono questi periodi nel calcio in cui le cose non vanno. Sarà un discorso fisico, un discorso mentale, un discorso anche... Fisico dopo 14 giornate? Lo so, ma ci sono questi periodi in cui non si può andare sempre a mille all'ora. Il Pescara fino a 5-6 giornate fa era prima in classifica. Il calo ci sta, come ha detto Dino, domenica c'erano assenze importanti e di conseguenza... Quindi c'erano forze fresche però? Lo so, però sai, quando ti mancano giocatori come diceva Dino, Fiorillo, poi Campagnaro, Memusciai, giocatori importanti e poi... Chi si trova d'accordo con l'analisi di Rachini? Perché giustamente dall'esterno... Dino, Balsano, benissimo, Balsano ha sempre giocato bene ed è bravo ed è un perno di questa squadra. Cioè, secondo voi questo sta diventando una squadra che specula... Francesco, scusa, vi sembra una squadra che specula sul risultato o no? Ma secondo me no, secondo me sono... Dino dice di sì. Ma secondo me sono i momenti della partita, perché allora mi viene da pensare che prima forse questa squadra, preparata in un determinato modo, prima andava a una velocità massima e adesso forse sta pagando uno sforzo iniziale. Invece Dino, perché secondo te sì? Attenzione, stiamo parlando di un'analisi generale, perché poi il Pescara è terzo in classifica... Se continuiamo a ripetere che il Pescara è terzo in classifica, non dobbiamo mettere in evidenza i difetti di queste ultime partite. No, ma che ci possono essere difetti anche in un'unità. Fino a qualche settimana fa, ora è giusto mettere nel risalto qualcosa che non va. Prego Dino. No, solo una considerazione. Fermo restando che sono d'accordo con Paolo, ok, ovvero noi siamo uomini di calcio insieme a Totò e gli altri. Detto questo... Detto la scherza. Bel complimento. Nel senso che noi siamo stati con Zeman, che sul 2-0 metteva 5 attaccanti e prendevamo 5 gol. E non andava bene. Adesso c'è Pepi, che secondo me è un buon allenatore, esperto e tutto quanto, che un attimino se va in vantaggio dice cerchiamo di non prenderlo il pareggio. Poi si può essere d'accordo che se vi ricordate le partite in cui noi stavamo qui a piangere, ma stavamo a dire che avevamo vinto, 1-0, 2-1, difesa 3, che poi diventa 5, abbiamo vinto, andava tutto bene. Se lo fai oggi, certo ci incavoliamo un po' tutti, no? Ma ognuno c'è la sua mentalità. Un giusto equilibrio sta cercando pillone. Perché io ieri vedevo la partita, quando la squadra si è abbassata, purtroppo non sono potuto andare per un impegno, e l'ho visto in televisione, quando la squadra si è abbassata, ma non solo ieri, cioè se vedete le immagini, e andate avanti. Poi, come dice Paolo, è inconscio, perché poi se viene a mancare sicurezza a questi ragazzi, ieri mancavano 5 i più grandi. Esatto, esatto. E' chiaro, il problema adesso sapete qual è? Battere il Carpi. Perché nel momento in cui tu fai il risultato con il Carpi, si riacquise come giovani, non giovani, quindi secondo te se ieri, perché abbiamo dimenticato di mettere il risalto, il salvataggio all'ultimo minuto, quella era... No, no, se andiamo a vedere le immagini... Sì, ma qui non parliamo di episodi, parliamo di atteggiamenti. Esatto, ma... Ma l'atteggiamento, il primo... Se ieri si pareggiava... La mia domanda è se si pareggiava con quell'episodio finale, due a due. Oggi i discorsi sarebbero stati completamente diversi. Io vorrei fare questo discorso, ugualemente a quei specie cose, perché non sono tragico. Io ho parlato con Nesta ieri sera, che il mio amico e il mio cliente da sempre erano, e lui mi ha detto, oh, tanta roba il Pescara, mi stai prendendo per il culo, sto parlando serio. Cioè, lui ci ha fatto i complimenti, perché è stato molto lucido, ha detto la partita, se finiva in pareggio, quel salvataggio lì, ma il primo comandato all'inizio, cambia tutto, perché questa squadra ha bisogno di entusiasmo, sono tutti ragazzini. Vabbè, ma l'entusiasmo chi l'ha tolto? Ma i risultati te lo tolgono, te lo tolgono i risultati, lui non riesce a vincere una partita da quattro domeniche, da cinque partite, e c'è una squadra che deve vincere, deve vincere, attenzione, è una squadra che può vincere, non riesce a vincere, e succede questo, una che ne vincono e vincere l'anno cinque di frio, ce l'ha di pesce. Luca e poi Antonio, Luca sul fatto che si specula un po' sul risultato, è la mancanza di personalità che ti fa arretrare, secondo me, è la mancanza di personalità, in quello spogliatore, secondo me è uno che ha personalità, che ha carisma, che viene eseguito, che può infondere coraggio, e Campagnaro che purtroppo è boxe, gli altri sono degli ottimi giocatori, alcuni, altri un po' meno, ma se tu ci stessi a Campagnaro, questa squadra non ha personalità. Fa fatica, fa fatica, secondo me ne ha poca di personalità, il resto, e tu vai a vedere, chi ha capacità di trascinare, di dare, di essere da guida, in una squadra, Campagnaro è quello che secondo me, riesce a gestire, gli altri un po' poco. Al 101%, potrei essere anche d'accordo, se puoi però per personalità, chi è che ha capacità di passitare la palla, di invitare, di strillare, ma puoi essere un solo elemento, dare la personalità alla squadra, o è proprio, Campagnaro è un riferimento importante, gol del Foggia, Iemmello sul rigore, Foggia 1, Venezia 0. Ok, dicevi Paolo, che è un punto di riferimento importante, però io penso che, in mezzo ci sono anche altri giocatori, Brugman, è un altro leader, quindi diciamo, a noi non avevamo detto, fino a qualche settimana fa, che questa squadra, aveva un'identità precisa, no, che sembrava compatta, nei reparti, sono compatte, cioè, è rimasto, questo criterio in voi, oppure, si sta scardinando, un po' questa teoria? Antonio? Guardi, io ti ripeto, la mia analisi, è soprattutto, un problema di condizione, perché se questo, che ci sia stato un calco, che te lo dico, il Marras, che abbiamo visto due mesi fa, non è il Marras, che abbiamo visto ieri, che era quasi un giocatore devastante, Macin, che ha avuto un calo, lo stesso Brugman, lo stesso Mancuso, vuoi dire, più mettici le assenze, probabilmente un po' di insicurezza ti viene, però, non dimentichiamo che alla fine, voglio dire, Pescara, io sì, confesso, la partita l'ho vista male, grazie a Dazzon, però, voglio dire, non si vedeva niente, no, io l'ho vista male, e voglio dire, il gol è loro, è arrivato, tra l'altro, da un calcio d'angolo, regalato, tra l'altro, non è che c'è stato, all'improvviso hai visto questa pressione, io la pressione del Perugia non l'ho vista mai, preso due gol e su due ruoli, anzi, l'Iperugia, veramente di pressione, non l'ha fatto per niente, alla fine il gioco l'ha avuto quasi sempre il Pescara, magari l'ha giocata in modo migliore, cioè senza pungere, senza avere questa cattiveia, soprattutto in fase offensiva, però, alla fine, non è che, io non ho visto questa squadra che si sia abbassata, e abbia subito il gol, è stata una circostanza abbastanza sfavorevole, fermo restando, che la pressione a mio avviso è stata negativa rispetto al resto, però non farei questo dramma sul fatto che la squadra sul piano tattico si stia snaturando, probabilmente quel po' che gli manca, soprattutto il dettato dalla condizione di gran parte dei giocatori, e poi dalla testa dei giocatori, che non può essere sempre la stessa. Un'altra analisi può essere che adesso le aspettative si sono alzate, da parte di tutti, dopo quell'inizio favoloso, splendido e inaspettato, ed ora il giudizio è condizionato da quello che tu hai visto. Questo all'esterno, però l'importante è che all'interno... Ma anche penso dall'interno, perché io credo che così come l'abbiamo visto ieri noi Macin, pure lui sa quello che ha dato, e magari pure lui si interroga, dico Macin, ma per dire, perché è uno di quelli che aveva endusiasmato di più. Quindi adesso se Macin gioca... Quindi risultati positivi, una bella classifica invece di aiutarti, possono creare questa difficoltà. Ma no, 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 no. Io credo di no, guarda, io ho giocato a calcio e ripeto, quando arrivano i risultati... Potresti essere più libero. Va tutto bene, però sono periodi così, io diciamo che sto allenando in Francavilla, e anche io siamo partiti, otto o nove partite all'inizio, eravamo 26, quindi io sapevo che i momenti di difficoltà sarebbero arrivati. Adesso vengo da quattro pareggi, quindi diciamo che il pareggio va visto come una sconfitta, anche se non sono d'accordo. Dipende. Eh, però io quello che valuto è che il Pescara è un po' in flessione e ci può stare, però penso che a breve tornerà a essere Pescara brillante dell'inizio. I numeri ci dicono 5 punti nelle ultime 6 partite, gol fatti 7, gol subiti 10. Già il fatto che è subito più gol di... Secondo me c'è anche un'altra analisi da prendere in considerazione. Noi non siamo una squadra pesante, io parlo proprio di chili. Noi abbiamo tutti brevilini e stiamo giocando adesso con temperature di 2-3 gradi, cambi un pochino pesanti, secondo me qualche problemino ancora con i cambi pesanti ce l'avremo. Ma questo l'avremo fino a febbraio-marco. Esattamente, perché siamo una squadra non di carri armati, ma di gente con la palla insuppata, fa più fatica di un Marras. No, è un brevilini, è uno veloce, è lo stesso Mancuso. Aggiungerei anche che il centro avanti, che non deve essere Mancuso, lo sappiamo benissimo, che però può fare il centro avanti, ha avuto un periodo in cui, faceva uno starnuto da parte. Come? Lo sappiamo tutti che non doveva essere Mancuso il centro avanti. Chi doveva essere? Monachello. Monachello. Il trollare? Mi sta prendendo in giro? Lo sto chiedendo. Voi lo sapevate che Monachello era il titolare? Se mi permetti, il giudizio e gli interrogativi... Non lo sapevo di parlare lo stesso. Voi sapevate che Monachello era il titolare di questa squadra? In fase di costruzione si sa. Allora, Mancuso è un esterno, doveva farlo esterno? Monachello è stato preso per fare il centro avanti, non ci stiamo parlando di Mancuso, dobbiamo giocare al centro. Poi Mancuso fa tanti gol, lui sta dicendo inizialmente... Mancuso è l'unica attaccata al centro. Mancuso è l'unica attaccata al centro. Sì, però... No, il resto non già ne esiste. Ho capito. Cioè, ieri, per l'ennesima notte, abbiamo visto i 5 minuti di Cocco, io con tutta... No, no, ma non sto discutendo. No, ti voglio dire... sicuramente è un giocatore, valido, professione, tutto quello che vuoi, però non incide minimamente, probabilmente non poteva essere lui la soluzione. La soluzione, in effetti... Io ti voglio bene, lo sai, io non sto parlando se Cocco è forte o non è forte. Io sto facendo... No, io ti voglio dire... Un periodo, faceva uno starruto e la parola andava dentro, come tutti i centri avanti. Adesso, casomai, prende la palla con le mani e prende il palo. Quindi ci stava, ci stava, ci stava, non faremo male. Ma era sotto condizione, pure ieri non stava bene, voglio dire. Certo. Ci vorrei quella. Stiamo parlando di episodi. Il discorso precedente era relativo a una situazione generale, l'atteggiamento, quindi personalità che può esserci in determinate occasioni o meno. Perché poi gli episodi, come dici tu, condizionano il risultato e i risultati condizionano il giudizio. C'è l'azione di Brugge che ha tirato alle stelle, ragazzi. È un'azione veramente fatta bene. Però se facciamo questo tipo di discorso... C'è macita le scariche indietro, attraiti. Se facciamo questo tipo di discorso lo dobbiamo fare anche nelle situazioni favorevoli, quindi la classifica alla fine è quella che ti è. Infatti, all'inizio, a qualche punto l'abbiamo preso... No, forse non meritando. Forse, no? Siamo tutti d'accordo. Anche lui che mi viene sempre contro, no? Mi guardi male, ma siete d'accordo? Sì. Adesso stai pagando. Il Pescara deve fare un campionato e se arriviamo tra i primi 7-8 tutto quello che viene in più è tutto di guadagnato. Non ne farei un dramma. No, perché prima parlavamo della pressione che ci può essere stata per questa bella classifica. Ma Enrico, gli obiettivi comunque iniziali, come dice Dino, non erano quelli di essere tra le prime posizioni. Normale che il Pescara ha fatto una partenza veramente importante. E allora perché si dovrebbe soffrire questa pressione? E' intrinseca questa, Enrico. E' intrinseca, eh? Cioè, ce l'hanno, come ha detto prima Paolo, cioè, non è che uno gli dice arretrate, arretrano proprio. Questo è. Ma io, questo arretramento, lo scusate, ma può darsi che l'ho vista male, però io non lo vedo. Cioè, io vedo più un problema veramente di condizione di testa, cioè il problema è quello. Certo, certo, certo. Però a totale, lo voglio dire, c'è un dato di fatto che la squadra si abbassa sempre, dopo che... Sì, però ieri, prendiamo la partita di ieri. Appena ho trovato il pareggio. No, no, aspetta, aspetta, le due occasioni che ha avuto il Perugio, si passava la difesa con tre centrali. Quante volte, sul vantaggio, dicevo, la partita di ieri, le due occasioni che ha avuto il Perugio, sono state due ripartenze, sia il gol, sia l'occasione precedente che ha avuto. L'altro, sul calcio d'angolo, che non c'era una pressione, perché voglio dire, questa pressione, la partita, il problema vero, è che la partita l'ha fatta il Pescara, purtroppo più nel mare che nel bene per l'esito che ha avuto la gara, ma non c'è, io questa cosa della squadra che si abbassa, probabilmente, o nel caso di ieri, non riesce a gestire il vantaggio e questo è il problema che hai sollevato tu e che è successo diverse volte e lì magari c'è da lavorare, sia tatticamente che sulla testa dei giocatori. Però sulla partita di ieri secondo me è stata una partita giocata non al meglio, direi da 5 e mezzo a 6, con molti errori tecnici, con molti errori in cui, l'ho detto all'inizio, il Perugia l'ha vinto sbagliando di meno, il Perugia l'ha vinto sbagliando di meno, il Pescara l'ha perso sbagliando molto di più. Vogliamo rivedere questo gol subito da Castrati, Paolo, normale che ci può stare perché poi è giovanissimo, ha fatto alcuna parata da una parola, ha salvato, ha fatto un intervento importante. Ha uscito da Camigliazzi che non più li fanno i portieri quelli. Lui ovviamente non vogliamo discutere. Cosa può essere successo? È partito prima. È partito prima, Paolo. Secondo me era un po' coperto. Secondo me sì, a capolare. Il momento che calcia lui c'è davanti. Forse è malato aiettoria, non lo so, però sì, l'errore c'è stato è anche grave. Scusate, quella parata la devo fare con la mano destra, ha fatto con la sinistra e vuol dire è partito primo. Sì, infatti. Ma può darsi che... Però si è ripresa immediatamente nel secondo tempo perché a parte il gol di Ghiomber dove non è... E non è facile quando si fa questi errori qua. Poi si fa un po' di bambini. Ho riuscito anche a deviare una punizione insidiosa all'incrocio dei panni. Invece andando sul gol di Ghiomber, ovviamente lì la responsabilità è di Perrotta che non tiene marcatura. No, Rackini... Guarda, io... Lo stiamo vedendo ora. Allora, la mia squadra le prime 7-8 giornate ha preso parecchi di questi gol. Io, diciamo, penso che anche lo stesso Pilon lavori sulle marcature basta un secondo di disattenzione per perderti l'uomo e prendere gol. Il problema è che non è la prima volta che capita per rotta di... Non penso che per... Di essere protagonista è negativo di questa stagione. La settimana prima con la testa... Non lo guarda. Non è che questo è arrivato da dietro e ha fatto il terzo tempo e gli ha fatto... No, stavano a contatto per tutta l'azione. Aveva fatto una leggerezza grossa. Ardemagni se l'è perso a tre metri della porta. Mi ricordo la prima partita a Cremona sulla fascia ha fatto passare il suo avversario e abbiamo preso gol. È un giocatore che purtroppo evidentemente fa fatica in questo contesto. Questo tuo discorso solleva ovviamente il perché non vengono ancora scogni a miglio. Ne parleremo tra qualche istante dopo il primo break pubblicitario. Continua per tour. Se cerchi qualità assortimento e il miglior prezzo Notti d'oro a Montesilvano oltre mille metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa esclusivista Blue Marine Borbonese Luigi Bellora Bossi Fazzini Somma Piumini Down and Step Materassi Temple Dorelan Simmons Mistral Pirelli Permaflex e Letti Bontempi Notti d'oro Vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271 Telefono 085 44 58 973 Notti d'oro Materassi e Biancheria Per sognare Dal 1970 Time Rivestimenti offre compassione e professionalità finiture di interni ristrutturazioni adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti rivestimenti controsoffitti e cartongesso tendaggi complementi d'arredo finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento una novità unica nel settore con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica www.timervestimenti.it DZ Insurance Sport oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport prodotti altamente mirati per atleti professionisti un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale questa è la DZ Insurance Sport zampa corta assicura lo sport Salve sono Emilio De Florentis l'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio da quel momento da 72 anni la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara la sede in via Spaventa nella zona dello stadio triatico Emilio e Alfredo De Florentis 085-66-021 Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500 500X Panda Tipo ed il ritorno del mito la nuova 124 Spider e poi lancia Abarth e veicoli commerciali inoltre la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali la concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara con ingresso in via Raffaello 30 aperti anche il sabato mattino e pomeriggio 21 e 35 minuti tornando ad analizzare il momento della pescara insomma è il periodo più difficile da quando Pilon è sulla panchina dei Biancazzurri siete d'accordo almeno su questo perché l'anno scorso no? è più difficile di stare a Venezia ti ricordi no? l'anno scorso è più difficile è stato quel per gli aspettativi che si erano create adesso è questo non l'anno scorso sì l'anno scorso in Pescara se faceva un referendum a livello nazionale vinceva con l'80% dei voti a favore che era uno delle candidate se non è candidato numero uno per la ricogestione Venezia ma la sua gestione la sua gestione era stata positiva sì di Pilon ho capito tu allora parli di gestione la parte più difficile di Pilon è stata quella l'anno scorso e salvare quella squadra parlo infatti lo vediamo anche dalle interviste perché siccome ci tiene molto sì perché adesso si erano create delle aspettative diverse nettamente migliori invenzabili a parte che stai ripetendo la mia domanda come rispondi? a che cosa? com'è come rispondi? come risultati sì questo è un momento difficile però ripeto il Pescara recuperando anche qualche giocatore penso che le difficoltà maggiori scusa ti interrogo nella passata stagione ma che vogliamo stiamo parlando di risultati delle gestioni Pilon lo scorso anno è arrivato in una situazione drammatica ha compiuto un miracolo salvando il Pescara quest'anno è ripartito alla grande e adesso sta trovando delle difficoltà è ovvio che sta provando delle difficoltà e davanti agli occhi allora come risponde a questa classifica dopo si può rivedere la classifica come fare la considerazione Francesco non rispondi risponderà chi? non ho capito che domanda mai fatto guarda io ripeto per me Pescara è terza in classifica sta facendo un ottimo campionato poi se si può analizzare i risultati delle ultime cinque si dice di un Pescara in crisi io non sono d'accordo Pescara in flessione però ci sta quindi Luca è questo il momento più difficile della gestione di Pillone che deve metterci anche qualcosina in più anche lui perché a me l'impressione guardando la partita come può curare il Pescara è studiando un piano B perché noi il Pescara io credo che abbia un allenatore gli allenatori oggi abbiano imparato anche a conoscere i giocatori del Pescara che magari tre mesi fa Marras non lo conoscevano magari non conoscevano Bere Maicin adesso invece magari Nesta la settimana scorsa avrà visto 13 partite del Pescara avrà capito che mettendo un terzino bloccato dalla parte di Marras Marras faceva fatica o qualche altra cosa io credo che ci sia ci vuole ma secondo me bisogna anche cambiare qualcosa Gattuso che non è Gattuso e quindi Pillon non ha studiato ma dai facciamo ridere Gattuso nelle ultime tre partite ha cambiato tre volte schieramento tattico io voglio fare una considerazione sulla classifica però io voglio sentire anche Paolo che se può essere questo un'analisi ma tatticamente Pillon è super preparato quindi troverà le alternative giuste è normale che nel momento in cui le cose non vanno provi a cambiare qualcosa io a me è successo posso chiedervi ad esempio come avete valutato Greco sulla fascia sinistra entriamo un po' nel dettaglio i temi Greco a sinistra c'è a sinistra prego a Dolucci si è fatto male Capone che per me parliamo di giocatori forti si è fatto male non è mica colpa di Pillon ha ritenuto Greco che secondo me per caratteristiche quel ruolo lì è il migliore dei peggiori perché non è il suo ruolo e ci ha messo lui se c'era uno dei due non giocava Greco lì però poco fa vi hai detto Monachello centrale Mancuso a sinistra io ho detto che all'inizio si presumeva una cosa simile all'inizio ti ha sorpreso Totò Greco a sinistra ma non per dare adesso responsabilità a Greco sono delle curiosità a livello tattico ti dirò che me l'aspettavo anche a prescindere dagli infortuni io credo che Greco avrebbe giocato anche perché le volte che è entrato ha avuto proprio quella posizione voglio dire l'ha fatta pure bene Cosenza fece con me non ha inciso molto questa volta però credo che sia una soluzione normale ma non è normale provare a cambiare qualcosa nel momento siccome non troviamo forse per adesso non lo sta trovando nemmeno Pilon le spiegazioni si è la testa si è quello si è quella si però poi in campo si va per giocare in un determinato modo ossia provare qualche soluzione diversa prima lui stava suggerendo l'hai detto tu prima gioca Manguso fai giocare Monachello e gioca Marras a destra oppure metti Marras a sinistra si è provare qualche cosa che puoi dire perché si chiama allena finiamola con questa storia che gli allenatori vedono i giocatori tutta la settimana e quindi non è concepibile che sbagliano la formazione non è concepibile che uno che ne avessi l'allenamento ne avessi una cosa e dia un giudizio su come cacchio deve giocare ma no quando tu chiedi possibile che non ci sta non lo so se tu mi vedi sette allenamenti di fila poi torni qua e mi spieghi perché cacchio potevano fare se no non si può dire allora non si può parlare ma 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 non si può parlare in funzione di quello che vediamo la domenica o il sabato o il lunedì quasi parliamo in funzione di quello che vediamo la domenica la considerazione scusa a volo la considerazione ma continuiamo questo discorso per la classifica dici tu io diciamo della classifica no proprio per anche per capire un po' il clima che stiamo vivendo allora il Pescara nelle ultime tre partite ha preso un punto giusto? è benissimo tutte e tre le vigilie di questa di questa di queste partite abbiamo detto il Pescara può andare in testa della classifica oggi è la stessa situazione cioè se Venendi vince il Pescara va in testa della classifica quindi poi questa storia di vedere questo dramma allucinante io non ce lo vedo nessuno sta facendo allora parliamo venerdì come è rappresentata la partita il Pescara può andare in testa della classifica è matematico è normale 23,3,26 altrimenti altrimenti se siamo convinti che questa squadra ne le può fare sarebbe da matti pensare che possa arrivare in testa della classifica ma nessuno ha detto che non lo può fare o non può tornare prima di classifica stiamo analizzando così come hai analizzato la partita del Perugio che hai detto quello che ho visto non quello che pensavo di vedere voglio dire è diverso io ti sto semplicemente dicendo che forse in questo momento anche per dare una scossa provare qualche soluzione ad esempio me le golvi è piaciuto ieri a me sì come no ti ho avuto conto che non giocava da tanto tempo appunto per considerare che se c'era Memusha e Melegoni non giocava nemmeno ieri Luca? allora quando li fai giocare giocano sempre gli stessi 11 amico mio allora vi chiedo una prestazione positiva per Melegoni in tante settimane abbiamo detto perché Melegoni è rimasto fuori ora che ha fatto questa buona prestazione è andato in gol meriterebbe diciamo il condizionale di giocare o no? no secondo me no perché il centrocampo del Pescara è ben definito Brugman Meusai per l'idea di gioco di di pillone va bene? quindi io non capisco quello lì se fatto male gli ruba il posto melegoni io non capisco ma scusa però è ragionamento ma io ho visto un paio di partite casalinghe sì il centrocampo quello che dà più affidabilità sicuramente ma sicuramente cioè non ci può essere però bisogna trovare anche le alternative perché poi c'è un calo di rendimento per fermarci a due giocatori di Marras e di Macin ma può essere che per una partita una per vedere se ci stanno per sapere un conto è vedere gli allenamenti allenatore che pare che solo allenatore vede gli allenamenti ed ecco benissimo ma se poi la domenica vedi che questo come il concetto come il concetto come il concetto Totò e poi Luca no ma come il concetto secondo me melegoni può essere un cambio non solo di Memushai può essere anche un cambio di Macin ma in particolare voglio dire dipende sempre dall'allenatore come li vedi non è che possiamo stare a dire no melegoni è meglio di Memushai o è meglio di Macin in base a quello che lui può vedere melegoni per quello che ha fatto vedere almeno in questo momento lo dovesse dimostrare anche nel concetto dell'allenatore può essere un'alternativa perché no? Dillo perché non sei d'accordo? No perché c'è un discorso di base profondo che non mi va a dire profondo se si ragiona provate a immaginare allora c'è una squadra a base gioca a quella sempre provate a immaginare il Pescara mette in campo quindi non parli di melegoni un 99 un 2000 no? ok? a scapito di un giocatore diciamo no mette in banchine Memushai fra un po' la gente comincerà a dire ecco devi fare i soldi Sebastiani fa giocare quello così solamente ma tu c'entra la gera non possiamo stare dietro alle voci le voci popolari non possiamo stare dietro le voci popolari ma noi di questa squadra hanno 11 titolari e 4 in 2 riserve ma se si fa male un titolare entra la riserva se fa bene la riserva se il titolare cala di rendimento mi si dà un loro risposto e non parla sono d'accordo io quello sto dicendo ma non è andato in banchina perché ha calato in rendimento eh? Paolo come funziona allora? scusate fatemi sentire l'unico allenatore che c'è scusate guarda io per me la difficoltà allenatore è proprio nel motivare più giocatori possibile nel senso che che poi in questi momenti giocatori che hanno un rendimento più basso quindi tu devi essere bravo a coinvolgere altri che stanno in panchina e farli sentire importanti perché ripeto poi nell'arco di una stagione ci sono questi momenti e quindi non si può far giocare sempre gli stessi undici e quindi l'allenatore bravo è proprio quello che riesce a motivarne 15, 16, 17 non sei d'accordo con Dino che deve giocare quella squadra un allenatore può avere un allenatore può avere un undici base però sono detto semplicemente quello perché il calcio è fatto di chi sa giocare e chi lo sa giocare con te però poi gli alternativi ci sono undici che stanno giocare gli alternativi se ci sono però venerdì se Memushaia è a disposizione Meleconi ha giocato bene Macin un po' meno magari si può sedere per una volta Macin e gioca Meleconi Memushaia è proprio qua non credo che sia un delitto far sedere Macin una volta Meleconi forse a fare il tecnico diverso o no perché Meleconi ha esattamente i tempi di inserimento che c'hanno caratteristiche diverse hanno caratteristiche benissimo però i tempi di inserimento di Meleconi sono molto simili a quelli di Macin non ne ho visto uno sinceramente ma chi ne hai visto uno la prima partita l'ha fatta calcio di ricordo che ieri per tempi di inserimento tempi di inserimento al centrocampo di arrivare a tirare anche voglio dire quando fai senza palla te la metti ma quale senza palla io sto a parlare di centrocampisti che fanno senza palla ma che mi stai a dire ma di chi stiamo a parlare su ho capito poi mi fai un italiano non lo scopri non lo scopri inserimento della mezzale inserimento della mezzale allora che cacchio mi stai a dire Dino non ce l'ho ma dove vuoi arrivare fammi capire vuoi parlare di italiano parliamo di italiano vuoi parlare di italiano non ne parliamo ho capito ho capito un grande giocatore l'inserimento senza palla è capace a fare inserimenti da centrocampista a fare inserimenti da centrocampista fa due gol con il Carpi è finito tutto no perché poi il campionato finisce a giugno determinate cose non si risolvono se vinciamo a Carpi e poi vinciamo a Verona e giochiamo dopo si a Verona bravo se tu ma vinciste due partite è ovvio che torni prima in classifica però poi potrai avere un altro momento qui l'analisi è generale non stiamo parlando che tizio è bravo Brugman mica siamo dicendo che non è bravo perché ieri non ha fatto quel gol e come diceva Dino lì uno da un giocatore voglio dire per esempio gli esterni che si sacrificano molto però resta uno bravo è che però poi in fase realizzativa magari perdono qualcosa perché sì in effetti sono d'accordo davanti se non segna Mancusa poi si fa fatica a fare gol quindi manca qualche gol di Marras manca qualche gol di Antonucci adesso beh è infortunato manca il gol della mezzala che poi magari la partita bloccata te la fa vince e non affidarsi sempre a Luca quindi qui invece di Marras che è bravissimo può giocare del suono che magari nei piedi qualche gol potenzialmente ce l'ha l'ha fatti da ragazzo l'ha fatti in prima squadra l'ha fatti l'anno scorso non lo so cioè bisogna cambiare qualcosa quello che volevo creare un piano B invece Dottò dice no devo giocare così ma io non ho detto no io ho detto solo che se vogliamo parlare del nulla diciamo questo ci serve il piano B ma di così no se tu non conosci se non fa gol non ci sta niente da fare io non mi azzardo penso che ho fatto il mestiere per 50 anni non mi azzardo se non vedo se non vedo non capisco le previsioni anche che fanno parte di un discorso di allestimento poi è normale che Pellon è lui che decide lui si prende la responsabilità non è che decide io non lo so se lui prova la squadra diversa dove gli allenamenti sono fatti apposte queste sono cose che non sappiamo noi vediamo la squadra abbiamo visto sempre quella quindi non è che ormai ci siamo fatti un'idea no no durante la settimana però alla fine alla fine abbiamo parlato nelle scelte e nel gioco abbiamo parlato della possibilità di gestire questo è il problema vero è la gestione della partita ma non è come alzato io quest'anno ho visto fare il 4-3-3 poi si è messo il 5 poi ho fatto il 4-4-4-5 è quello che ne ho visto in mezzo che fanno tutti gli appassionati in Italia tutti gli allenatori la mia carriera da giornalista quando giocava affermato no no giornalista normale ma non solo la mia anche dei miei colleghi dell'epoca tu andavi all'allenamento martedì mercoledì giovedì mercoledì e sabato ok avevi un contatto diretto con l'allenatore con i giocatori e ti rendevi conto di quello che poteva succedere adesso non ce l'ha nessuno questa possibilità si si parla perché questo è esattamente è uguale è uguale esattamente esattamente va bene ora vittorio si che è successo due pareggi il Venezia pareggia a Foggia con Vrioni e ora siamo all'intervallo mentre a Bergamo al dodicesimo della ripresa Zapata pareggiato per l'Atalanta 1-1 a Bergamo che succede Francesco mi dispiace che il Napoli non vince intanto sempre perché ho fatto sempre il tifo va bene allora pubblicità e poi torneremo in studio tra due minuti a tra poco se cerchi qualità assortimento e il miglior prezzo Notti d'oro a Montesilvano oltre mille metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa esclusivista Blue Marine Borbonese Luigi Bellora Bossi Fazzini Somma Piumini Down and Step Materassi Temple Dorelan Simons Mistral Pirelli Permaflex e Letti Bontempi Notti d'oro vieni a trovarci a Montesilvano in corso Umberto 271 telefono 085 44 58 973 Notti d'oro Materassi e biancheria per sognare a Montesilvano a Montesilvano a Montesilvano a Montesilvano a Montesilvano DZ Insurance Sport oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport prodotti altamente mirati per atleti professionisti un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale questa è la DZ Insurance Sport Zampa corta assicura lo sport Salve, sono Emilio De Florentis l'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara la sede in via Spaventa nella zona dello stadio triatico Emilio e Alfredo De Florentis e poi lancia a Abarth e veicoli commerciali inoltre la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali la concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara con ingresso in via Raffaello 30 aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani sono preparate secondo le antiche tradizioni locali Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere Strada Provinciale Peratri, uscita A14, direzione Pineto Dal 1970 Time Rivestimenti offre compassione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti rivestimenti, controsoffitti e cartongesso Tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento una novità unica nel settore con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica www.timerivestimenti.it ore 21 e 55 minuti si continua a parlare di allenatori che dicevi Dino? No, stavo facendo un'osservazione che è solo dal discorso pescara però un po' si può riagganciare sul discorso degli allenatori guardiamo il Napoli l'anno scorso il sarrismo aveva 11 titolari e 2 che entravano io dicevo 3 ma lui mi ha corretto 2 e non hanno vinto nulla perché non hanno vinto nulla la Champions non l'hanno vinta il campionato non l'hanno vinto non hanno vinto nulla quest'anno si trovano con Ancelotti ha una rosa di 23 giocatori fa giocare tutti e 23 io ho visto spesso Amsic in panchina ho visto sta cambiato modo l'ho fatto tutto non vinceranno niente neanche quest'anno purtroppo dico questo alla fine il discorso è chi dei due io prenderei se fossi un presidente economicamente hai ragione i microfoni accesi domanda la De Laurentiis che tu conosci il pillone è come Sarri lo scorso anno senza fare paragoni il pillone come metodo di pensiero è come Sarri il pillone come il 90% e tu mi devi evitare no il 70% pillone è come Sarri perché anche lui forse è come Sarri perché prima non è un disfetto è una caratteristica un concertino che suona se non c'è una squalifica se non c'è un caloromoroso un infortunio lungo se non c'è fermi fermi un concertino che suona siccome il concertino prima suona cinque partite fa non era un concertino era un'orchestra ecco adesso un'orchestra meravigliosa adesso quest'orchestra sta diventando o è diventato un concertino lo stiamo ripetendo da diverse settimane altrimenti la rosa di 24 elementi se non le fanno tutti se vogliamo parlare della primavera sono in 29 e ne giocano in 11 è una cosa che secondo me è sbagliata è sbagliata le rosa devono essere fatte da 18 calciatori più 3 portieri se capita un'epidemia si va a prendere in primavera punto poi se però dobbiamo vincere il campionato e in Italia tutti vogliono vincere tutti vogliono vincere non è il discorso inerente al Pescara intrinsecamente io sento chiunque che non vuol vincere il campionato qua come obiettivo iniziale io voglio vincere pur se poi stiamo vincendo tutti vogliono vincere sì però vincere facendo un in questo caso il Pescara per fare un buon campionato però anche questo mi serve esagerare cosa? alla fine gli unici giocatori che hanno fatto tutte le battite sono Bruggeman e Gravio gli altri cioè i tre terzini sono alternati gli altri difensori sono alternati sì certo a centrocampo anche Maccina inizia la uscita e poi Memusciai l'unica cosa la rigidità è stata soprattutto al centrocampo se andiamo a vedere però tutti perché poi all'attacco soluzione non avevo il problema giocato però se Campagnano stava bene come presenza abbiamo Bruggeman perché era la canzone con Kruggeman Mancuso Memusciai la prima partita che salta Marras ne ha saltata una e in difesa Gravion ne ha fatti Gravion e Bazzano qualcuno ne ha saltate anche no Bazzano ha saltato un paio le ha fatte tutte no dico se io parlavo di quelli che hanno saltato cioè Angelotti non c'ha bisogno di infortuni per mettere Rog e mettere a sedere Amsic Amsic sta in panchina idonissimo però metterò è successo allora 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 ti devo corregge ma dai l'ha sostituito ho parlato congiunto ma è stato un militaggio delle riserve adesso non possiamo parlare di Angelotti l'hai portato come esempio e Sarri lo scorso anno che la pensavo in maniera diversa ogni allenatore ma io preferisco non solo Sarri Amsic che comunque cambia però resta il fatto che Ancelotti come metodo come metodo di lavoro da calciatore avevo l'esempio Deglio Rossi che comunque cambiava spesso cambiava e comunque coinvolgeva più giocatori che dicevo prima anche una filosofia diversa sì lo so una bella filosofia nel registro dello spogliatore quello che non gioca neanche non gioca mai alla fine parla con te io non ce lo faccio più una volta e ti crea un clima un clima pesante cioè voglio dire scogna miglio io non lo conosco scogna miglio manco che faccia scogna miglio l'unica risposta che abbiamo è che Meneconi è stato ignorato per tre mesi è tornato è tornato uno dei migliori allora quello che dici tu che dopo uno dipende se si butta giù altro dipende facciamo la domanda a scogna miglio lui arriva a pescare per partire titolare si infortuna e si prova la coppia Perrotta-Gravion inizialmente poi entra Campagnaro al posto di Perrotta vanno bene i due esce Gravion torna Perrotta che ha commesso qualche errore diciamo così e scogna miglio ancora non si vede quando lo provi quando gli dai un'opportunità come può reagire uno scogna miglio la c'è ragione Totò scusa giocatore con la sua esperienza come può reagire reagisce bene voglio dire allora Campagnaro dopo l'esperienza dell'altrano doveva lasciare il calcio perché quello che hanno combinato l'altrano dipende dalla caratura del giocatore sicuramente Scognamino non è stato bene si è presentato con 15 kg di troppo se ve lo ricordate e quindi non riusciva a giocare mezza coppita dopo di che è stato infortunato io credo che la professionalità di Scognamino che la possiamo mettere in discussione solo perché non gioca vuol dire se è quello allora è un problema grave di spogliatoio quando succedono cose di questo ma io questo non lo vedo lo stato d'animo di Scognamino non può essere lo stato d'animo non lo sappiamo che stato d'animo c'è Scognamino ma a me dello stato d'animo non lo so non deve fare l'interesse della squadra non può fare pensare ma di fatto che dico io se c'è un galo di rendimento un galo anche di risultati o dal fatto che c'è anche un galo di prestazione io credo che sia naturale credo non sto dicendo devi fare così la mia domanda è non sarebbe il caso chiudiamo il cerchio sul Pescara scusate se mi metto fretta perché abbiamo tanti argomenti nessuno ne parla cosa? ho detto mi viene un po' da ridere nessuno parla di Elisalde Elisalde è un difensore io ho fatto due tre setti sono Scognamino Scognamino noi c'è un ragazzo del 2000 che potrebbe essere un nostro gioiello che ci permetterà negli anni successivi di fare una squadra perché non ha mai giocato Elisalde allora viene incontro al discorso ma non è una non è una polemica perché sarà una polemica nessuno vuole fare polemiche nessuno si parla di Scognamino e proviamo a rizzare non lo dicono i giornali non lo diciamo noi non lo dice nessuno ma sono tanti i casi perché c'è il caso Palazzi però Dino in questi momenti di difficoltà mettere magari un ragazzo come dici tu bravo che è di prospettiva a parte che ci vogliono attivare però è normale che lo metti in questo contesto un po' di difficoltà può darsi che il ragazzo lo vai a bruciare oppure può darsi di fare un partitone perché pure lo dico può essere bruciato però sai in questo momento si può cercare anche il giocatore facciamo una domanda che conclude tutti i discorsi fatti finora dove si deve intervenire Antonio per migliorare la squadra allora principalmente sulla testa dei giocatori e sulla condizione dei giocatori quindi la scelta che deve fare il tecnico anche in base alle condizioni cioè voglio dire alla vigilia di questa partita di Perugia Mancuso non era in condizione Monachello veniva reduce da quello che aveva combinato con l'Ascoli allora con sto ragionamento che doveva fare doveva mettere Cocco titolare probabilmente no probabilmente no quindi il problema è capire Cocco gli saranno ancora fiducia 5 minuti da partita io l'ho giocato 20 minuti Cocco non lo sto difendendo non si può giudicare non si può giudicare io mi ricordo quando arrivò Bagaglio Co al Milan non so se avete un po' seguito sembrava di dire ma questo dove arriva che deve fare ma era Gattuso che lo diceva adesso ieri ha detto che il nuovo Reikard due sono le cose o Gattuso non capisce niente di calcio ci sono dei controsensi ci sono dei controsensi perché tu stai dicendo non può giocare 20 minuti o non gioca mai o gioca titolare esatto infatti dico secondo me un giocatore va giudicato dopo avergli dato 3-4 possibilità di giocare titolare ma se prima hai detto che è Melegoni è giusto che vada in panchina Melegoni stiamo parlando di un 99 quell'altro stiamo parlando di uno che ha 32 anni è diverso perché sono ruoli diversi se sbaglia Melegoni nessuno succede niente se il cocco si mangia un gol davanti alla porta lo crucifiggiamo è anche scalenza di contratto le pressioni sono superiori ex campionati ma ragazzi ma ragazzi siamo tutti di calcio qua questo è il tuo pensiero però non è detto non è detto che il giovane debba essere valutato in maniera diversa dal più agliato perché? il ragazzino il ragazzino gli è permesso tutto veramente c'è il contraccolpo psicologico proprio perché i giovani ma ti faccio una domanda se anziché Castrati lo avesse fatto a Fiorillo quella papera di ieri stavamo a discutere infatti viene giustificato è un ragazzo un secondo ci può stare viene giustificato però se lo penalizzi però se lo penalizzi il giovane ha un contraccolpo diverso dalla persona anziana cioè cocco assorbe meglio il colpo Melegoni non è vero non è sempre detto questo perché poi c'è quello anziano che dentro lo spogliatore fa casino questo può rispondere lui non io sentiamo Orachini il ragazzo sa di aver sbagliato tu Melegole lo faresti giocare la prossima partita dopo la prestazione si lo farei giocare però è normale certo se dentro Melegole è normale scusa non entriamo nel particolare come concetto come concetto ha ragione Totò perché il concetto però Dino quello che vuoi come ha detto magari farlo giocare a posto di Macin come Melegole e Brugman e provare un'alternativa e provare due amici caratteristiche sono diversi però provare un'unico allenatore presente esatto scusa tu parli sempre del 99 del 2000 il procuratore questo questo problemino qua e qui la differenza è in base all'età vorrei ricordare all'amico Totò che se stasera io non riparto ci vediamo stanotte all'1 quando è che la replica di questa trasmissione e a che punto a che punto della trasmissione circa 20 minuti fa quello che Rachini ha detto e calcisticamente lui sta all'università io non posso fare neanche il vidello nel rapporto con lui però 20 minuti fa ho detto che se Melegole dopo quella prova deve giocare potrebbe giocare al posto di Macin che non sta avendo senza sapere senza voler sapere al posto di chi come concetto dove vorrei non me l'accordo solo tu sostieni questa lazione si sta evidenziando una situazione che si hanno messo Luca tu hai in supporto di Dino oppure sei d'accordo con gli altri a prescindere tiene sempre ragione quindi con Benegoni in campo e Macini in banchina per un venerdì sera non è un dramma non è un dramma sì ma non parla si in banchina del sole in campo non è un dramma fino a benedì proprio in mente ci vedrà se il giocatore Racchini e Dino parlano tra di loro ormai speriamo mettiamoci uno qualsiasi però Antone non hai detto che l'allenatore quello che fa è azzeccato no ma può anche sbagliare però tocca a lui decidere ma certo che deve decidere lui ma certo che deve decidere lui è Pilon Curi Pesca certo che deve decidere lui è chiaro quello che tu mi contesti non si è d'accordo sul fatto che in un momento in cui si sta accusando una pressione tre punti in tre partite io sostengo che magari cambiare qualcosa sia necessario e tu dici no perché solo l'allenatore può guardare ma perché non può cambiare quello che tu dici no il piano B tu non lo prevedi è banale il piano B certo il piano B l'allenatore lo deve costruire del sole forse è sbagliato chiamarlo piano B perché piano B può sembrare una cosa grande ma del sole al posto di Maras può essere un'alternativa dal primo minuto Cocco titolare può essere un'alternativa perché Cocco può fare un gol ma non è un giorno scusami Luca non è questa cosa come cioè se tu non è che se lo devi fare una cosa se tu adesso facessi l'allenatore tu fareci il piano B senza avere manchi il giocatore perché quella è l'idea che c'hai no scusami facciamo il piano B ma lo preparo ma non lo so se lo preparo ma che ci faceva a dirlo ma che vuoi sapere tu con il classe 99 difficile uscire allora anche il 2001 Enrico io praticamente alleno alleno a franca vita ti posso garantire che provare delle alternative in settimana in settimana io non è che provo sembra la stessa formazione provo 4-5 soluzioni e poi quelle che mi danno più garanzia è normale è normale che poi il giocatore se no non farebbero prendo spunto dalla tua dichiarazione perché il pillone sempre hai detto merita chi sia meglio no? cioè la meritocrazia settimanale vuol dire che gli 11 si sono allenati sempre a vedere gli altri si ha scelto sempre quegli 11 lì però no su questo non sono d'accordo no su quello non sono d'accordo perché magari lui ha in testa un 11 base non aspettate lui ha detto cambiare per cambiare adesso i cambiamenti che ha fatto credo credo che non siano a parte quelli obbligati no aspetta io parliamo di doveri di ieri non credo che siano voluti però però Fiorillo non c'era sto guardando con Lascoli Balsano non c'era infortunato non c'era infortunato non c'è lascia stare ha cambiato se sono obbligato è normale che deve cambiare dai Dino se sono infortunato è normale che deve cambiare non posso non fare ma metti caso che l'avesse fatto per scelta ma che metti caso sono infortunati come fai a dire ma c'è stato un cambiamento tra Lascoli e ieri o no dovute a cause forza maggiore e lui parlava non cambiamo cause forza maggiore ma ieri abbiamo cambiato ha cambiato male il modo l'ha cambiato pure il Dino ha cambiato male vogliamo andare avanti oppure no no beh allora con quello che hai detto hai deluso e con Lascoli non hai vinto e hai deluso lo stesso o no ne con Lascoli e ne con Perugia a meno che uno non si aspetta che il Pescara faccia tre gol a tutti quanti come ce l'ha obbligato forza ma chi l'ha detto allora si allora abbiamo dovuto mani facere ricordate il titolo del giornale di venerdì il Pescara si gioca la terza della classifica dopo andatelo a leggere ma anche domenica prossima no no venerdì venerdì ce l'ha anticipo col Carpe se vince ma prima no ma l'ha detto anche Pellona prima della partita l'ha detto anche Pellona prima della partita ma no però lo titolo si sta analizzando io vi sto dicendo che sei radissimo come i numeri ci sono ci sono ma se c'è un meciere nel quale a volte si analizza e si no che si c'è una cosa in dialetto Sarvote che la scrippella è con gli avvocati e i giornalisti sono bravissimi per questo Totò non si sta dicendo è ovvio è ovvio che il Pescara se vince venerdì sera e sabato sta prima in classifica in attesa delle altre partite benissimo ma si sta analizzando non tutto il campionato che tutto il campionato del Pescara fin qui è faroloso sta in terzo in classifica però se tu fossi arrivato terzo in classifica con tre vittore di fira nelle ultime tre settimane e non con tre punti sarebbe un clima è una stessa squadra se arrivano i risultati se non arriva i risultati si può cambiare certo siamo tutti d'accordo ma come no ma vuoi dire qual è un'altra sintesi venite a dire il contrario a Totò è d'accordo con Pella non devo confermare quella squadra no forse il Pescara aveva corso troppo nelle prime giornate era andato a cento all'ora quando le altre ancora non carburano questo l'hai detto anche tu prima Francesco no poi non vi dico perché evidentemente no l'hai detto anche tu l'hai pensato anche tu prima Francesco secondo me è possibile se vuoi sentire il mio parere sicuramente con reali più dovessero anche questo ti ho fatto l'esempio di Marras che quando l'abbiamo visto due mesi fa sempre lo spiri un'ira di Dio spiri con sale ma non ce la fa non è perché ma non è perché Nesta l'ha capito non è che il problema di condizione è solo ma che voglio capire Nesta ma si può sedere Marras se dobbiamo aspettare che si fa male Marras per vedere un cambio cioè Marras si può accolgare in pagina una domenica o dobbiamo aspettare l'infortunio come diceva Dino per vedere un cambiamento in quel ruolo allora le caratteristiche sono l'unico cambio naturale del sole del sole che purtroppo per quello come vedi Pilon caratteristiche diversi da Marras questo dici solo tu cioè perché perché del sole è più tecnico a tiro e sicuramente dovrebbe la squadra avere un'attività diversa è un'entica ma è possibile che lo faccia perché non è che non è che ne ha commessa però non voglio dire io la partita che ho visto ieri è che alla fine Pescara ha giocato un 4-5-1 con i due esterni che stavano a centrocampo e poi avevano molto possesso palla Mangus sembra da solo e non lo so in effetti la partita di ieri è stata quella magari strigli negli esterni perché non ce l'ha gli esterni veri perché gli esterni veri Crecco e Marras sono esterni imboatici mettergli due più vicini ma guardi che l'ha messo poi dopo dopo alla fine andiamo in pubblicità poi parliamo di tennis a che ora? fra un'ora di tennis a tra poco di tennis ora 22.17 minuti allora tra i nostri ospiti c'è l'allenatore Rachini di Francavilla tra poco faremo qualche domanda su Francavilla e con Dio in zappa corta prima come ho detto tocca a te rispondere sulla tua attività perché tu sei qui come agente FIFA agente assicurativa adesso hai fatto un po' l'allenatore stasera però vabbè qui tutti possono parlare il tuo tra i tuoi giocatori affiliati c'è per esempio Jose Mauri che adesso è titolare nel Milan non so se me ne siete accorti era ora che giocavo finalmente ha giocato l'hai scoperto a 14 anni che aspettava è stato un esorgio da titolar no aspettate è stato bravo che a tu si è fatto giocare un calciatore è stato talmente bravo che se io fossi Leonardo lo calcierei tu però hai un talento nella primavera del Pescara no? il talento no questo è veramente un talento il signore secondo me un buon giocatore un buon talento ho 16 anni il talento il mercato ho 16 anni il talento scoperto in Argentina ma io penso che ho 14 anni l'elemento di spicco il mercato lo conoscono tutti la primavera che sta andando benissimo poi è la primavera di Zauri come si chiama? vedi c'è un giornalista importante come lui non sa neanche come ma se si dire io non ci vado allora te lo dico io si chiama Nicolas Mercato è un 2002 argentino a proposito di mercato perché tu l'hai portato qui giovanissimo dall'Argentina lo vogliono un po' già lo seguono molti club italiani giustamente così dico lui è senza contratto tu però l'hai voluto portare a Pescara perché sei legata a questa città ma perché mi fai questa domanda? non ho capito vuoi arrivare voglio arrivare al punto che fa parte della tua attività con gli uffici ti sto facendo anche un complimento no ho capito però senza contratto è un lavoro che paga e bisogna lavorare sui vari mercati ecco in questo senso allora le regole adesso parlo da da tifoso del Pescara da dirigente del Pescara le regole andrebbero un po' cambiate perché oggi il Pescara sono in pratica un anno e mezzo che sia valido di questo ragazzo l'ha cresciuto insieme a me perché insomma è come un altro figlio ce l'ho in casa mettiamo a casa che questo sia veramente bravo ti arriva una squadra straniera te lo porta via gratis e non puoi dire nulla il famoso training compensation ma è una stupidaggia rispetto al valore che potrebbe avere allora tu società sei costretto a fargli il contratto e lì ti parlo sempre da dirigente ma si può fare un contratto ragazzino di 16 anni perché lo si va a uccidere perché se gli fai un contratto comincia a volare con la testa casomai non diventa più giocatore ma tu sei costretto a farlo altrimenti come Cozzella l'anno scorso è arrivato in Montpellier e se l'è preso rivederci e grazie noi l'abbiamo cresciuto ma quello si è preso cosa bisognerebbe fare? no secondo me sarebbero cambiate le regole io sto parlando adesso non da procuratore questa situazione per noi è perfetta perché se io fossi un figlio di domani questo qua mi esplode e qualche con il gancio all'estero credo di averlo saluto Sebastiani guarda il ragazzo purtroppo non è colpa mia sarebbe stupida per cambiare le regole in quale direzione? sui giovani secondo me a poterli contrattualizzare solo a fargli il contratto oppure lui può andare via dove vuole avrebbe vietato che se il ragazzo in questo caso non ha contratto arriva un'altra società e più forte se lo prende c'è un problema così la società in questo caso il Pescara non è costretto a fare il contratto a un ragazzino esattamente l'ha capito pure lui c'è un piccolo torniamo serio c'è un piccolo problema che a un ragazzino non è il caso suo perché è veramente un ragazzo penso che l'hai visto qualche volta ma veramente tutti ne parlano bene siccome è stato convocato anche della nazionale la sub come la chiamano loro 16, 15, 17 non so quindi adesso andranno a fare degli stage dovranno andare in nazionale 2002 ricordiamo in Argentina ci sono tanti miei colleghi che a me mi si mangiano ok se qualcuno lo avvicina e dice ascolta ma questo zambaco lascia bene perché io ti sto portando al bocca ma tu come sei messo quella casomai no perché funziona così purtroppo gli mette a cambiare questo l'abbiamo la famiglia e tutto quanto lo prendiamo in quel posticino io Sebastiani e la Pescara Calci questa è la verità Andrea due cose intanto per la felicità di Francesco Di Francesco il Napoli è tornato in vantaggio nel finale con Milik all'ottantasettesimo e poi ti do questa news fresca fresca perché ufficiale Luca Modric è il nuovo pallone d'oro ha vinto staccando di 300 punti Cristiano Ronaldo al terzo posto Antoine Griezmann a te grazie Andrea allora torniamo capito come funziona è una cosa brutta e dice le caratteristiche di questo giocatore è una mezzala che ha quantità a forza quantità è una mezzala anche difficile come anche difficile sì sì non è alto però è anche nella primaria del Pescara ci sono degli elementi importanti in prospettivo ovviamente riferisco a Palmucci Palladini Marafini poi anche in Under 15 Scipione e Patanè sono tutti tesserati suoi sono dei ragazzi ai quali do dei consigli parlare di procura è una brutta roba ma devo dire che sono molto felice per Marafini per Palmucci per lo stesso Palladini perché vengono da un anno l'anno scorso in cui non hanno dato secondo me quello che potevano dare quest'anno ha detto degli altri non miei perché purtroppo non ci sono male vedo poco dice che hanno avuto una crescita veramente importante sia a livello di personalità sia a livello tecnico forse non so si sono amalgamati bene con l'allenatore tanto che mi sembra che siano secondi in classifica ma vedo un gruppo unito e addetta di chi se ne intende il direttore ha detto anche Zara ha lavorato bene si sta lavorando bene mi dicono che sta lavorando bene ma anche addetta dei direttori parlo di Pavone e Luca Leone hanno riconosciuto in tanti Pavone lo scorso anno scusa Repetto e Luca Leone ci può stare Lapus Lapus hanno riconosciuto che ci sono diversi elementi della pescara calci che nel giro di un anno hanno avuto veramente una evoluzione è una ventina di elementi giovani non solo nella pescara punti molto su questa selezione quindi non vai alla ricerca del giocatore che è già affermato il giocatore già affermato non ha bisogno di me perché ci sono procuratori che a me mi mettono in questo taschino qua però c'era uno che è giovane mi si si abbiamo detto un'apertura c'era 14 anni non nego che ci sono anche persone più grandi che si avvalgono di me non come procuratore come consiglio tutto quanto dove io conoscendo dopo 30 anni che ci sto dentro un po' tutti gli dico guarda ascolta chiama il tuo procuratore di chiamare quel direttore quella società che cercano un attaccante un difensore poi che insomma si concretizza la cosa è il mediatore ecco chiamiamolo così perché oggi la figura del mediatore è una forte cioè il contatto con questa società europea tipo Bayern Barcellona continuano Chelsea sì quando qualcuno ha fermato sempre sui giovani però no adesso stiamo cercando di fare un'operazione ovviamente non posso parliamo di un giocatore molto molto importante del River Plate che non per l'Italia che mi hanno coinvolto tu sai che c'è degli uffici lì sono persone che lavorano per me da anni e mi hanno coinvolto il procuratore di questo qua mi ha chiamato lui mi ha detto guarda ascolta tu che dici in quelle due società come sei messo io ho fatto che è benedetto no benedetto è vecchio parliamo di un ragazzo giovane che però già insomma questa collaborazione con i grandi club va avanti procuratore con tutti i ragazzini e spero che il mercato faccia le soldi nel Pescara come lo fai per il Palmucci ma per chiunque anche quelli che non sono miei perché questa è la soddisfazione di squadre come il Pescara senti poi è un divertimento avere anche contatti con il mondo dello spettacolo vabbè quello lì quello è un divertimento nella tua isola di Z ma sì ma questo non c'entra niente questo non c'entra niente approfitto perché fai tutto fai anche il manager dello spettacolo i grandi artisti che tengono ci sarà l'evento annuale in beneficenza chi sta nel mondo del calcio fa anche il calcio ovviamente si trova in determinati ristoranti in determinati posizioni cioè vai a cena e tu li porti da te con i calciatori è probabile che incontri la Ferilli secondo te qua quindi nascono dei rapporti e io mi sono buttato dentro in alcune situazioni organizzo un evento quindi chiederei la Ferilli con Francesco la Ferilli credo che no perché io conosco la signora è molto meglio la moglie di Francesco della Ferilli molto meglio poi a sopportare Francesco non è semplice ma che lo racconta a carico questo evento ogni anno organizzo un evento che tu sei stato anche l'hai visto che il ricavato delle offerte di tutti gli ospiti diamo in beneficenza e ogni tanto cerco di coinvolgere qualche personaggio importante della musica qualche attore qualche persona insomma a livello mondiale o nazionale diciamo che la gente si diverte tipo uno sono stato Gianluca è venuto lo salutiamo perché il papà e il nonno soprattutto ci ascoltano io volevo salutare ecco volevo salutare fare un applauso io volevo fare un applauso complimenti per il nipotino a Ernesto Ernesto sì e poi il nonno Ercole e il papà che sono delle persone squisite io l'ho detto nell'evento l'ho detto per scherzo ma lo ripeto davanti a tutti cioè evento poi è stata una cena simpatica è venuto di Francesco sono venuti diversi personaggi molti non sono riusciti a venire tipo Fabio Rosso che c'era il campionato però Pilon non l'ha invitato perché Pilon non l'ha invitato ma non c'era nessuno della Pescara Caccia solo il presidente c'era perché sai quando inviti lo staff inviti tutti e quindi devo ringraziare il Cinoble che è stato uno dei milioni come si diverte no ma scherzo lui è bravo a rispondere però c'è un problema che io ho invitato di Francesco e lui non è venuto non mi ha dato una buona giustificazione quindi è stato l'ultimo invito che io gli ho fatto dalla prossima edizione ho invitato Racchini perché lo vedi ancora come ex a me l'invita poco quando organizzo questo ma poi è successo a me l'invita solo a giocare a te il prossimo anno mi presento senza invito Paolo Racchini come sta andando questa esperienza andiamo un po' di fretta questa esperienza Franca Lilla sta andando nel verso una bella esperienza molto positiva come dicevo prima siamo partiti ieri un buon punto a Reganati sì un buon punto abbiamo giocato un'ottima gara abbiamo creato parecchio però siamo andati sotto abbiamo rischiato di prendere il secondo gol e poi nel secondo tempo penso che c'è stata una sola squadra in campo è una buona squadra in fase difensiva sono tre sconfitte sì abbiamo perso poco però ultimamente abbiamo fatto anche cinque pareggi consecutive e di conseguenza quindi da migliorare la fase offensiva ma no il problema è che prendiamo gol noi siamo il secondo migliore attacco della Serie D quindi abbiamo fatto 25-26 gol siamo dietro al Matelica e il problema è che abbiamo preso forse un po' troppi gol e per il tipo di giocatori che abbiamo dietro sono troppi però ripeto abbiamo abbiamo una squadra buona che può crescere può crescere ancora tanto e io sono molto contento di quello che sto facendo insieme ai miei ragazzi ma ti stai trovando bene dopo l'esperienza con l'Angolana questa è una nuova struttura con il presidente Candeloro che cura anche i minimi dettagli il presidente Candeloro è una persona squisita poi c'è il direttore D'Ercole che veramente mi ha messo a disposizione anche una squadra molto competitiva quindi sono contento di tutto ovviamente bisogna cambiare qualcosina perché con i pareggi si muove poco la classifica però ripeto le prestazioni sono state sempre di livello e anche ieri abbiamo fatto veramente un secondo tempo molto importante abbiamo pareggiato abbiamo preso due pali ci hanno annullato un gol insomma prossimo turno sabato 8 dicembre ore 14.30 con il Sant'Arcangelo di Emanuele Cascione si è un'altra partita difficile come tutte Cascione giocherà non che allena Cascione Cascione gioca ancora e gioca ancora bene perché comunque ha 35 anni quindi è ancora in condizione di senti invece i tuoi ricordi dell'esperienza pescarese ma io allora il primo anno di Pescara è stato eccezionale nel senso al di là dell'infortunio che ho avuto ho avuto la rottura dei legamenti della caviglia però ho fatto 21-22 presenze 21 partiti e un gol sì e siamo arrivati a un punto della Serie A quindi è stata un'annata molto importante dispiace aver perso quella partita con la regina una partita che secondo me è il campionato di Decanio perché non ricorda la partita stava in campo sì sì in campo e mi ricordo la partita dominata che purtroppo poi andò a finire con un autogol meglio ricattarsi due campionati vinti due campionati vinti con la Salernitano uno di C uno di B Salerno è la piazza che ti ha dato più sì beh Salerno sono stato 5 anni quindi ho fatto due promozioni C1 BBA Deglio Rossi è il tecnico che ricordi con più piacere Deglio Rossi a parte che mi ha allenato 4-5 anni poi ricordo anche Decanio che mi ha dato tantissimo a parte che la considerazione che aveva in me come calciatore mi faceva giocare sempre però sì anche Decanio è un allenatore importante allora l'ultimo giro la facciamo col Carpi beh ah col Carpi sì non la presentiamo con una partita già delicata perché una partita come tutte le altre credo certo può servire l'errore potrebbe essere per caricare troppo questa partita pensare che sia una partita facile vista la posizione del Carpi e visto il rendimento del Carpi Carpi che ha perso con il legge ma ha vinto la presente partita a Padua mi piacerebbe non fare come fanno gli allenatori non so se sicuramente vi è capitato ma date uno sguardo agli allenatori prima della partita il giorno prima casomai gioca Inter-Francavilla e tu ti senti dire no però attenzione perché Francavilla c'è Paolo Rochini allora Pescara col Carpi deve vincere quello che non volevamo sentire io ho detto non deve commettere l'errore non è successo perché deve vincere perché è più forte e se non vince non succede niente non succede mica nulla però Pescara ha ragione l'ordine domenica io voglio andare in campo siccome siamo più forti e l'abbiamo dimostrato con i punti e tutto qua dobbiamo vincere punto poi se non vinciamo andiamo a mangiare del rossicino no se non vinciamo vuol dire che è stato bravo anche il Carpi esatto però io sono d'accordo con lui che queste sono le partite sono d'accordo Castori l'ha incontrato sì ma sì Castori come allenatore è un attore che conosce molto bene la categoria una partita sarà più difficile al limite dell'area di rigore o se lo giocherà? se col pulmone c'è un armato è insidioso come partita vero i valori tecnici però sono diversi tra il Pescara e il Carpi è una squadra che sta facendo fatica in Serie B verrà qui il Pescara è bravo totò per chiudere? no io dico quello che spero cioè prima ho detto che il venerdì saranno i titoli sarà nel Pescara si giocherà il primato il giorno dopo sarà il Pescara il Pescara è raggiunto la vetta quindi giocare prima degli altri questa è una domanda un po' banale può cambiare qualcosa no no l'unica cosa credo soprattutto quella che penalizza adesso le squadre è questo fatto che si gioca alle 9 di sera il Pescara sta giocando secco le temperature allucinanti tu ne sai qualcosa per oggi pur non giocando questo veramente l'avversario in più in questo momento è proprio l'inverno Fiorillo c'è questa notizia che salterà Carpi e Verona per lo stiramento al flessore della coscia sinistra però fiducia per Castragli ma come no ma come no ha fatto grandi interventi Francesco che è successo? lo stai considerando poco si ecco Andrea siamo in chiusura finale a Bergamo Atalanta 1 Napoli 2 a proposito di Portieri scusami scusami che è successo Andrea? Atalanta-Napoli finale 1 a 2 però a proposito di Portieri c'è una situazione particolare a Carpi perché il portiere titolare Colombi è stato espulso dopo la partita contro il Lecce quindi sarà squalificato il suo vice che è un pescarese Serraiocco è infortunato quindi il Carpi giocherà col terzo portiere Sambo a meno che in questi giorni la società non prenda uno svincolato a te 2005 è un giocatore che hai seguito ma no sto scherzando questo è un 2005 2005 Sambo come lui mi prende in giro? Sambo è un giovane portiere Sambo della Pistoese è brasiliano ed è forte io lo conosco perché è il fratello di Samba Sala Samba siamo Samba ragazzi stiamo Samba stiamo carseggiando Luca vuoi chiedere tu? venerdì vince torna prima in classifici Paolo in bocca al lupo per il tuo campionato grazie per essere stato qui con noi grazie a te augurarti spero di non aver detto troppi subiaggi in bocca al lupo soprattutto per la tua isola di Z grazie a Tottorio Nardis Francesco di Francesco grazie a Andrea Costantini non abbiamo nulla da aggiungere no? sì abbiamo qualcosa da aggiungere oltre che Foggia Venezia 1-1 al 78 al Gran Gala del Calcio miglior allenatore stagione 2017-18 Massimiliano Allegri l'ex Biancazzurro a te allora grazie grazie Andrea Costantini grazie a Maurizio Daguin Riggi a Lauris Benato della GT Fotovideo ci vedremo lunedì prossimo sempre alle 21 grazie per averci scelto grazie a tutti ieri grazie a tutti ieri